Oggi abbiamo voluto ancora una volta con questa manifestazione molto semplice ma molto significativa ricordare quello che loro hanno rappresentato nella unità del nostro paese, hanno rappresentato per questa missione, ripeto una missione di pace che viene svolta in diversi territori nel mondo. Quindi siamo grati a loro, siamo grati ai carabinieri naturalmente, siamo grati per quello che si fa e grazie a loro che in realtà come la nostra sono in realtà così anche tutelate.